Se fossi in me saremmo in troppi e già qui dentro c'è una gran confusione Serve l'immagine, la comunicazione, devo cambiare connessione Se fossi in me saremmo in troppi e già qui dentro c'è una gran confusione Mi serve un leader d'opinione che mi dia un'indicazione, sono più rap o più indicazzone Non ricordo dove ho letto che forse ai vostri cani non piace la tecno Spariti i sogni dal cassetto, beh qui la vita è ingiusta, i vostri sogni in un sacchetto forse più corretto Busta quindi butta male, voce del verbo sputtanare per dedurre che si può ballare pure senza assumere O lavorare senza essere assunti, io non giudico nessuno, mi faccio un'idea se vuoi ti do gli appunti Ma mi spiegate perché ogni cosa che fate quando vi schierate si trasforma in una gara squadra e basta un attimo Fine del dibattito fra due tifoserie che tanto le idee giuste sono le mie Tanti argomenti senza un'argomentazione, amore senza precauzione, fede senza imprecazione Ma i cani sono meglio delle persone che dicono che i cani sono meglio delle persone Le preghiere non funzionano ma le bestemmie si dite amen Lei mi dice che deve lasciarlo come fosse un altro impegno in agenda È il martedì o po' il dance e c'è un esame a fine mese quindi Marco, beh, lo lascio intorno al 30 Sai che cosa mi spaventa? Che la gente si accontenta, la gente si addormenta E sti stronzi qua qualcuno li stipendia, quindi pungi come un tossico Vola come una bestemmia e lascia che si insultino a vicenda Nella vostra trasgressione c'è un sacco di conformismo In tutto quel disagio c'è un sacco di narcisismo E senza offesa ma vestirsi male, avere un pessimo rapporto col cazzo Mia cara non c'entra niente col femminismo Che fine ha fatto l'umorismo? Togliti il palo dal culo e lascia stare il catechismo Che tanto non fa effetto, no, non sono neanche battezzato E si desiste pure peggio perché è evidente, a cazzeggiare Le preghiere non funzionano ma le bestemmie si dite amen Le preghiere non funzionano ma le bestemmie si dite amen I cani sono meglio delle persone che dicono che i cani sono meglio delle persone I cani sono meglio delle persone che dicono che i cani sono meglio delle persone Se fossi me saremmo in troppi e già qui dentro c'è una gran confusione Ma i cani sono meglio delle persone che dicono che i cani sono meglio delle persone Le preghiere non funzionano ma le bestemmie si dite amen Le preghiere non funzionano ma le bestemmie si dite amen Le preghiere non funzionano ma le bestemmie si dite amen Le preghiere non funzionano ma le bestemmie si dite amen I cani sono meglio delle persone che dicono che i cani sono meglio delle persone